Per non perderti nessun contenuto su questo canale ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, ma che nuovo non è molto perché ragazzi sa di bei, bei tempi. Infatti qui con noi abbiamo una persona molto particolare che ha fatto, potremmo dire, la storia, nonché le fondamenta del canale. Quindi caro mio, presentati per piacere, stronzo. Ciao a tutti ragazzi, eccomi tornato, incredibile. Voi non l'avreste mai detto. Per chi non mi conoscesse, io sono Frost, amico di Gio, figlio di mio padre. Per chi non lo sapesse, lui è una pietra miliare, cazzo, miliare di sto canale. E ragazzi, se lo conoscete, mettete che hashtag gli facciamo mettere se ti conoscono? Hashtag fantasmagoria. Hashtag fantasmagorico, solo se lo conoscete per far vedere chi mi segue veramente da i quattro iscritti probabilmente. Non abbiamo ancora detto il succo di questo video, su cosa è incentrato, che cosa andiamo a fare Fabio a tela world. Allora, con il Gio abbiamo deciso per, diciamo, festeggiare il mio, tra virgolette, ritorno su YouTube. Una challenge in cui andremo a mandarci cinque frame di immagine, immagini di Pokémon e dovremo indovinare. Esattamente. Ognuno di noi dovrà indovinare il Pokémon dell'avversario. Comunque ragazzi, o meglio, comunque Fabio, io direi che possiamo provare a iniziare. Vai, vai, ve ne sto. Allora, chi inizia? A te l'onore, visto che sei ospite. Dai, inizio. Gli ospiti per primi. Questo tetto qua l'ho appena inventato. Vai, prego, prego, vai. Grande, grande il parto, aspetta. Allora, io direi di partire con questa cosa qua. Io sono carico, te lo dico, io me la sento. Grande, se non la indovini, niente. Io me la sento, io me la sento. Cos'è? Eeeh, una fiammella bastarda. Messa lì così, in verticale, quindi sta in testa. Gmortar, Magmar. No. No. Hai tre tentativi a Pokémon. Ah, abbiamo tre tentativi, è davvero buona. Raga, scoperte sensazionali proprio, fantasmagoriche. Esatto. Allora, mi stai dicendo che non è Magmar? No. Allora. Hai anche una domanda, poi, che vai, continuiamo così. Ok, perfetto. Di che generazione è? Eeeh, Unima. Unima, o Unima? Ti ho aiutato di brutto. Vabbè, dai, io la butto lì, guarda. Eeeh, ma vaffanculo. Panser, ma non è lui. Chi è? Vai, te la mando, aspetta. Preparati, perché probabilmente bestemmi in cinque minuti. Cazze! Eeeh, minchia, non c'ho neanche, non c'ho neanche pensato. Quindi adesso te la mando, appena la trovo nella mia, nella mia roba. Eccola qua, vediamo un po'. Non ho più falli da idea. Che dato per cazzo è uscito sto morto. Io lo so che appena, appena te la mando, mi cominci a bestemmiare dietro in quindici lingue. Può darti, perché ho l'intenzione, cioè... Appena te la mando, appena te la mando, mi scleri contro. Sharpido. No, ma non è Sharpido. L'avevo già detto. Vecca te lo fa, non lo so, bestemmia, Fabio. Prendete bestemmiatene tutti. Ma no, ma stai scherzando? No, stai scherzando. No, figura, ti so da indovinare. Io lo, lo sapevo che non l'avresti indovinare. Ma figurati, ma per favore, ma dai, non è possibile. Figurati, se non è una cosa sassimile, ma dai. Voglio rimanarmi anche il pello del culo d'Arceus, già che c'è, no, se l'hai selezionato va bene. Vai figlio. Con due cazzo è sta merda. Cos'è sto? Allora, sempre tipo, non sei netto? Allora, sempre tipo un ventre. Un ventre? Oh, aspetta. È di tipo drago? No. E se hai giocato la domanda. Krogank? No. Però no, non ne ho idea, mi arrendo. Ti arrendi così? Non potrei, cioè, palpi, Todd. Ti arrendi? Sai che, guardando da un'altra prospettiva, non sembra un ventre. No! No! Oh, questo qua è particolare. Vediamo un po'. Age Slash. Preso, 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 preso. Preso, uno a zero. Uno a zero per il Fabio. Dai, questa qua era abbastanza easy. Questa qua era molto soft. Allora, dai, 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 che devo recuperare. Oh, Cristo. Flareon. Bastardo! Flareon, questa, 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 quella diretta, tre secondi, Fabio. Finchia. Sottomesso qua, eh, oh. Ah, mamma mia, che postato. Qua sottomesso. Finchia, ho detto farà casini, dirà Arcanine invece. Eh no, non mi fotti così. Vai, beccati questa, veloci. Questa è, questa è stronza. Mmm, Ippodon. Ma assolutamente no, mai nella vita. Ma non essere assolutamente lui. Non è assolutamente Ippodon, te lo posso giurare. Ippodon, sai che è quello del deserto. Sì, 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 l'Ippodon, non è Ippodon. Guarda, te lo. Cazzo, ma non è assolutamente lui uguale. Io questa, Fabio, Fabio, l'ho presa precisa. Precisa, precisa. Io lo sapevo che andava a finire così. Se vuoi puoi arrenderti, te la mando e pensermi. No, no, buccazzo. Ma che ti ha reaction? Una parola, una parola, davvero. Ma da dove, che parte è, scusa? Che cos'è, da dove viene? Dov'è? Cos'è quella cosa? No, aspetta, io sto cercando di capire che parte è. Fabio, le parti bianche, sono le parti bianche dello sfondo, non c'entrano niente. Sei un figlio di puttano, Giovanni. Vengono dalla coda. Ma Giovanni, non posso arrivarci, sei pazzo. Allora, questa, se ti può consolare, questa era la più difficile che avevo. Sarà meglio, cazzo. Io le ho finite quelle difficili. Questa era la più difficile che avevo. No, le altre che ho sono già più fattibili. Dai, girami lassù che abbiamo già perso troppo tempo. Sono a Cristo 20 minuti di registrazione. Vai. Cazzo è stato... Shiftry! Eh, quel piedino, quel piedino lo conosco. Quel piedino lo conosco. Allora, c'avevo un giocattolo io di sto Shiftry che gli si staccava sempre il piede. L'ho imparata a memoria l'immagine di Shiftry. A memoria. No, io ho detto sto piede e chi se lo ricorda, ma figurino. L'unico semo che aveva il pupazzetto di Shiftry è il giro. Vabbè, dai, questa, questa qua non è difficile. Ma mi pigli per il culo, Giovanni, per favore. No, non è complicato. Eh sì, esatto. No, Max, è easy questa. Mi sei piaciuto. È pronto? Questo è facile. Sì, sono pronti, è spazzino. Non sembra mai facile. La salvo e te la mando. Devi cercare di farmene più grandi. Soprattutto non ci vedo. Oh, Gesù. Di che generazione è? Prima. Prima Gen? Prima Gen. Eh, questo è tosto. Allora, fammi pensare. Mi verrebbe, sarei a un uccellino, uno di quelli iniziali. Tipo... Perché, allora, Moltres mi sembra troppo. Cioè, non può essere Moltres. Firov non ricordo che sia così. Eh, però devi spararmi un nome. Eh, no, sto andando di esclusione io per ragionamento. Penso che sia una cresta. Perché una mano mi sembra troppo complessa per essere di prima Gen. Minchia, pure che artista che sei. Pure i dettagli grafici, vedi, approfondire. Sennò, bastardo, potrebbe anche essere una coda sto tumore. Sto Gen, io non me la ricordo da prima Gen, ma che cazzo? Hai ancora una possibilità, eh? Ti arrendi o... No, 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 giusto, adesso non mi arrendo, mi spiace. Mi butterete un po' a punto, no? Almeno ci provo, almeno ci provo. Eh, merda. Non sono sicuro, assolutamente. Sennò, i tipi erba li escludo. Il fuoco mi sembra... Growlite? No. Sì, ci ho provato, vaffanculo. Gira. Io mi sa che non mi ci sono avvicinato, purtroppo. Però non mi è venuto proprio in mente. Cioè... Era la coda di sto stronzo, figurati. Figurati se ci sarei arrivato. Vaffanculo, adesso ti metto il mio, però il mio è abbastanza easy. Dai, piglia. Piglia e vinci. Ma, minchia. Il volto, orbo-electrode, vabbè. Electrode. 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 Preso. Porco 2. 3 a 2. Oh! Mi abbattuto. E va vincere, e va vincere, e va vincere, incredibile. Qua c'è stata una sconfitta morale, etica, politica e dolorosa. Ma te la vincita, arriva su YouTube per la seconda volta, gli spacca il cuore. Qua su YouTube, ragazzi, non mi è mai capitato, a parte le sfide con Joe, di essere umiliato in tal modo. E nei commenti mi toccherà subire una vostra penitenza che deve essere sadica, perché io merito di soffrire. Mi raccomando. Quindi, ragazzi, scrivete qua sotto, una penitenza da affibiarmi. Io spero, noi speriamo, che questo video, nonostante la mia di partita, vi sia piaciuta. Mi raccomando, siate cattivi, con Joe. Siate molto cattivi. Esattamente. Siate attivi sul suo canale e passatemi, mi raccomando, lo trovate in descrizione, nelle schede e sotto casa vostra. Quindi, mi raccomando, non esitate. Detto ciò, vi invitiamo a lasciare un bel like, un commento, un'iscrizione ad ambo i canali, nel caso ci sia qualcuno. Se mi abbia conosciuto proprio con questo video, sarebbe grave. Devo dirlo, devo dirlo, Joe. Vai, dillo. Commentate con la vostra qui sotto e con la penitenza. Un salutone da Frost. Ciao a tutti. Mi mancava. Mi mancava. Ciao, mi mancava. Io non ho la forza per concludere questo video, ragazzi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie a tutti.